La ferma condanna della strage di Parigi nella moschea di Via Pisa, in questo venerdì di preghiera e di lutto, in cui nella capitale francese si spara ancora. Domani pomeriggio invece alle 14.30, flash mob dei trevigiani in Piazza dei Signori con cartelli e striscioni in memoria dei morti nell'attentato alla redazione del settimanale Charlie Hebdo. Ma quante saranno alla fine le vittime in una città assediata ancora non si sa. In Veneto e nella Marca l'Islam moderato prende intanto le distanze, passaggio necessario secondo il governatore Zaia. È fondamentale l'iniziativa, è fondamentale la presa di distanza, non può passare l'idea che il fondamentalismo islamico si traduca in rappresaglie a questi livelli ammazzando persone. Questi qua sono delinquenti, i delinquenti vanno trattati come tali. Dall'altro dico anche che è fondamentale ricordare che Charlie Hebdo aveva fatto vignette anche contro i cattolici, non mi risulta che noi siamo andati lì ad ammazzarli. Contro la politica sull'immigrazione del governo Renzi si scaglia invece il presidente della provincia Muraro. È una politica dell'accoglienza non organizzata e controllata che poi mette a repentaglio la vita umana delle persone. Attenzione a non cavalcare l'odio e la paura, ammonisce il primo cittadino di Treviso Manildo. Io penso che sia importante non generalizzare, sia importante che tutte le associazioni islamiche prendano le distanze da quello che è successo perché è un fatto gravissimo e assolutamente in alcun modo giustificabile e poi su questo continuare a fare un lavoro di sempre maggior attenzione alla sicurezza. Urgente, conclude il sindaco, stringere tra amministrazioni e forze dell'ordine il cosiddetto patto per la sicurezza del territorio. Dobbiamo chiaramente stilare questo patto della sicurezza in modo che sancisca una grandissima collaborazione tra tutti gli attori e anche una divisione delle competenze perché questo è fondamentale. Ci dobbiamo aiutare per garantire un sempre maggiore controllo del territorio.